ciao amici siamo al crescintago non c'è in giro un'anima a parte qualcuno che non si capisce qualcuno che si è perso starà lavorando 500 punto sono ritrati quasi un coprifuoco non c'è in giro un'anima ci siamo arrivati siamo arrivati a capire che se non ci mettiamo tutti in casa non ci fanno uscire più e comunque un po' di gente in giro c'è andiamo a dire ad attraversare che qui ci sono le strisce poi è un camion uno che lavora cosa porta niente neanche in farmacia c'è gente in questo momento meno male mi ora mi ora andiamo andiamo proseguiamo in questo breve giretto a portare fuori il cane passate Vigos è un moto è un moto ammazzo e vabbè e vabbè e vabbè e vabbè Milano coronavirus ragazzi che situazione che situazione lo vedete qualcuno che lavora in giro c'è d'altro canto una città da milioni di abitanti come è che ci si potesse aspettare qualcosa di diverso andiamo di qua dai che c'è la parte carina del Crescenzago mannacchia ragazzi mannacchia vedete c'è gente che lavora i muratori qui finiti di fare la facciata del palazzo la bella agila gialla guardate che pezzo guardate qui che che quadretto che quadretto carino di Milano uno non si raspetterebbe non sembra neanche di stare a Milano ammazzo tutto a mattoncini e vabbè qui di macchina non ce n'è riprendiamo in fondo la via aspettate che arrivo aspettate che arrivo Dacia un suficicolto panda non c'è un cazzo ragazzi non c'è un cazzo bella eh qua è bellissima riprenda riprenda tra poco ma il terio sei carino la lupo la lupo un asteglio con un cerchio già giusto non vale ne è all'interno a cinque coppie prima sei ragazzi 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 l'altra agila ragazzi l'agila l'agila si attivizza l'altra lupo cli niente vabbè vabbè da spararsi nei coglioni ma speriamo che passi in fretta sto momento speriamo in bang speriamo in bang va che mazzo dalla cina con furora ammazzo stanno abbandonato 13 mila euro interna in pal airbag motore v6 no non era v6 si iniziano a rivalutare queste tipo station wagon la tipo all'inizio faceva proprio cagare invece da sarà lunga ha una linea che né ti metti le mani nei cappelli né tantomeno ti sbracci per comprarla nel tre concessionario però ragazzi ragazzi che roba berretta che roba berretta essere trattato e vabbè e vabbè e vabbè e vabbè niente niente dai siamo diciamo diciamo di giro largo se no trafegne si incazzano un toareg bianco la mattina va la bora va la bora allora cambiamo strada così non facciamo la strada indietro a quel cane miura 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 dobbiamo cambiare strada miura coperino giallo cerchietta nera le 500 in giro questo è car sharing la formula 1 ragazzi 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 se tutto va bene se tutto va bene altre due settimane in casa speriamo speriamo qua già ci sono solo cancelli in più adesso non circolano più dobbiamo contentarci di quelli parcheggiati qua avanti c'è lo stabile dove girai lo spot della birra Moretti 8 anni fa 9 anni fa eh guardate guardate non c'è un cazzo da guardare non c'è un cazzo da ridere e siamo qua siamo qua in una Milano deserta a fare un giro in fretta guarda un'opera da mi gialla guarda un altro 500 miura che mi tira cosa c'è miura cosa hai trovato cosa hai trovato il sacro graal dei eh degli odori degli odori Forester Mini Cooper serie 1 Panda Y passati in sta via già due due o tre eh vabbè ragazzi vabbè eccolo qua è qua che ho girato questo stabile qua teatro di posa ci girano i film spot qua dentro ma che bello tutto bianco eh ragazzi miei ragazzi miei che dubal che dubal stiamo facendo questo giretto come ora e sto evitando anche i parchi perché c'è troppa gente e allora tutti i weekend allora dico no io cammino tanto c'è i sacchettini ragazzi tre punto serie 1 Yaris com'è che si chiama questo qua Mocca com'è che a Carola si chiama questo qua mamma mia c'è il Mocca continuo a dire e vabbè perché mi sono rotto le balle un'altra agila ragazzi vedete la giornata delle agili questo è cancelli a quattro ruote agili gli agili cancelli a quattro ruote vabbè 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 continuo a dire vabbè perché mi sono rotto le balle voglio uscire voglio partire come tutti voi ma no stiamo in casa T-Rock stiamo in casa speriamo ancora per poco è così chi deve lavorare chi lavora per pagare i fine mese vorrei sapere come pensano che faccio adesso arriva uno scenic lungo bordeaux ma quello questo non mi dispiace ma mi piace l'espace voi non ci crederete mi piace l'espace ragazzi col cerchio giusto non è brutta non mi piace linea di cintura alta finestruttura bassa ma linea bella pensate sarà l'effetto del coronavirus non so cosa dirgli che mannacchia iniziamo a rivalutare tante cose che non guardavamo più guarda una smart quattro porte total black vediamo vediamo cosa c'è attraversiamo torniamo sulla martesana mi culpe madù madù ragazzi sembra un incumo invece la realtà esce di casa è così e vabbè e vabbè e vabbè non so se questa cancellia quattro ruote lo chiamiamo e vabbè e vabbè e vabbè oh cancellia quattro ruote agili se becco un'altra agila ancora dai è agile è agile se no e vabbè e vabbè ragazzi vi lascio con questa immagine del naviglio della martesana al tramonto e niente rimanete connessi state connessi iscrivetevi al canale continuate a seguirci qualcosa faremo qualcosa faremo per liberarci da questa situazione di merda intanto stiamo tutti a casa ciao ragazzi vi voglio bene ciao dal vostro amico prossimo